Ad Albino un nuovo sistema di accesso ai servizi sociali cerca di superare le fasce ISEE. In particolare che cosa prevede questa nuova modalità? La nuova modalità che è stata applicata per la prima volta da Albino, ma che è frutto di un lavoro dell'ambito della Val Siriana, quindi 18 comuni che vanno da Aranica alla Val Gandino, prevede l'eliminazione delle fasce ISEE. E la sostituzione di queste con una formula matematica, formula matematica che parte da una tariffa minima a una tariffa massima e a seconda dell'ISEE, dell'utente, della famiglia che richiede il servizio, viene calcolata una tariffa puntuale. Quindi vengono eliminate le fasce e viene utilizzata una tariffa individuale che sarà diversa a seconda di ogni soggetto in relazione all'ISEE. Questo è un importante passo avanti rispetto alla tariffazione nei confronti dei cittadini, in quanto il metodo delle fasce ISEE era ovviamente buono ma molto perfettibile e quindi avremo tariffe eque e giuste nei confronti dei cittadini in base all'effettiva ricchezza che questi hanno. Vienerà applicato per il servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza domiciliare rivolto ai disabili, all'asilo nido e al centro di urno disabili. Inoltre verrà applicato anche per i contributi che il Comune dà per quanto riguarda le integrazioni rette dell'RSA e delle residenzialità dei disabili. Ovviamente non è solo Albino ma appunto sono anche gli altri comuni e questo ci consentirà di avere un'uniformità su tutto il territorio della basse e media val seriana per quanto riguarda i servizi sociali. In aggiunta il Comune di Albino ha deciso di applicare questo sistema della tariffa puntuale anche per i servizi scolastici, quindi mensa, trasporto e scuola dell'infanzia. Sul trasporto si è anche deciso, visto che era anche uno degli obiettivi della nostra amministrazione, l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, di ridurre sensibilmente la tariffa del trasporto scolastico al fine appunto di incentivarlo per ridurre l'utilizzo dei mezzi privati per portare i ragazzi e andare a ritirare presso le scuole, soprattutto un fenomeno che caratterizza le elementari con veri e grossi problemi di viabilità. Abbiamo ridotto le tariffe passando da 100 euro a 80 per quanto riguarda la minima e da oltre 400 a 240 per quanto riguarda la tariffa massima. Una riduzione notevole in cui l'amministrazione crede e auspica appunto che grazie a questa ci sarà un incremento delle iscrizioni e se non già quest'anno, comunque anche l'anno prossimo siamo sicuri che la popolazione apprezzerà questo intervento che va incontro a esigenze concrete dei nostri cittadini.